telespettatrici telespettatori di rossini tv benvenuti benvenuti in quello che è il nostro ultimo viaggio alla scoperta della onlus gulliver siamo qui proprio nel magazzino dove vengono stoccate tutte le merci che poi vengono rimesse in circolo ricordiamoci che la grande grandissima finalità di gulliver è l'economia circolare quindi la possibilità di riutilizzare le cose che alcune persone non vogliono più tenere per un insieme di motivi e le fanno utilizzare da altri oggi conosceremo molti dei volontari che lavorano qui alla gulliver tenteremo di capire anche quello che è un servizio che la gulliver fa da poco tempo il servizio a domicilio cioè l'aiuto proprio alle famiglie in determinate situazioni anche per svolgere le mansioni quotidiane che per tanti sono scontate ma per altre no conosceremo anche la squadra degli uomini della gulliver che lavora di muscolo mentre abbiamo già visto tutto quello che fanno anche le magazziniere le tante collaboratrici all'interno del magazzino siamo insieme a noemi marcolini per raccontarvi questa ennesima giornata di lavoro alla gulliver ci sposteremo poi anche in piazza redi per concludere il nostro giro fabrizio fra le tante cose che fa gulliver ce n'è una che è molto particolare e si chiama servizio per vicino le persone che per qualunque motivo hanno difficoltà difficoltà di spostamenti hanno bisogno di aiuto anche solamente per percorrere qualche chilometro possono fare riferimento a voi nel caso specifico a te per essere aiutati giusto sì esattamente buongiorno a tutti questo per noi è un altro progetto dell'associazione gulliver che a mio avviso è uno dei tanti fioreri occhielli che abbiamo perché chiaramente è un servizio rivolto specificamente a quelle persone che hanno una necessità diciamo abbastanza impellente nei loro servizi quotidiani che possono riguardare sia le persone anziane e anche magari i papini che hanno delle problematiche diciamo particolari in questo caso come in questa mattina dovrò partire per andare a prendere una mamma che accompagnerà il bambino di disabilità adesso non c'è un prestigio a cui rivolgersi ha pensato bene di chiederlo e oggi facciamo di questi servizi quindi è molto importante perché qui davvero si entra in casa delle persone cioè non è solo collaborazione come a pier qui nel magazzino nel grande magazzino di riuso oppure tutte le altre cose che fa gulliver qui si entra veramente in casa delle persone si esattamente ci tengo a precisare che oltre a questo si entra proprio diciamo in affinità con la gente si crea una sordine di famiglia dove comunque c'è rispetto c'è siergia e le persone si permettono anche di aprirsi e di poter raccontare anche le loro storie perché oggi c'è ancora più bisogno di comunicazione e noi anche tramite questi progetti riusciamo a fare un po retino con la gente e metterla in condizioni di potersi aprire raccontare le loro storie di aver fiducia degli altri che è una cosa molto importante che oggi iniziamo a mancare fabrizio quindi è proprio un aiuto per far sentire le persone anche meno sole davvero importantissimo esattamente sì una vicinanza da parte anche da chi non si conosce dove spesso e volentieri magari c'è un po di sfiducia invece noi facciamo sì che comunque possono avere qualcuno dove potersi appoggiare e rivolgersi ma non solo in maniera materiale con un servizio ma anche in maniera di cuore proprio farli aprire e far sentire che non sono soli che c'è qualcuno che insieme a loro può aiutarli nelle loro problematiche e lo fa davvero con grandissimo spirito di servizio grazie fabrizio ti lasciamo al tuo lavoro grazie buona giornata a te arrivederci soprattutto salutaci anche chi grazie a te le potrà avere questo grande aiuto grande mancherò buona giornata arrivederci Elena da quanti anni conosci Gulliver buongiorno a te da quant'è che sei qui in questa comunità e è stato proprio il momento della tua vita nella quale ti ci sei ritrovata e hai cominciato a lavorare con loro sì da tanti anni quasi dall'inizio ancora qui era tutto vuoto da molto tempo quindi sono un po diciamo l'anziana oltre i capi di gruppo così l'anziana del gruppo hai visto proprio nascere sì 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 tutto tutto molto bello io provengo c'è stato un periodo della mia vita non troppo bello e quindi mi hanno indirizzato in questo posto per aiutarmi ok e niente a tutti può succedere no ci sono quei momenti nella vita nella quale a un certo punto per fortuna si incontra qualcuno che ti aiuta ti fa partecipe di un progetto grande e in questo caso tu ti sei ritrovata qui alla gulliver sì qui alla gulliver mi sono trovata accolta e ho trovato persone non giudicanti che è molto importante soprattutto da partire dai piani più alti anche se non esistono nel senso che siamo tutti uguali e per me è diventata come una seconda famiglia io lo dico sempre a tutti e miei figli e le persone che mi incontrano è una cosa una situazione che io mi ha aiutato tanto anche per quello che riguarda me stessa per i problemi tra virgolette che avevo e quindi magari ce li ancora però sono migliorata posso dire anche loro lo sanno che mi ha aiutato molto e quella sensazione che ti porta a renderti conto che c'è comunque qualcuno in realtà che nella vita si incontrano anche persone positive persone valide che ti si aprono e ti mettono in condizione di essere te stessa giusto che mi vedono come dice il film avatar io perché sono appassionato di film ma hai citato avatar un altro straordinario film che ti viene in mente qual è se dovessi dire consiglia un film ai nostri telespettatori così è su due piedi su due piedi titane ma titane che bello però però sono altri film che mi interessano più la pazza gioia la pazza gioia la pazza gioia la pazza gioia di virgolette un po' mi ci rivedo ma è tosse però è molto qui dentro hai visto quanti dvd ci sono immagino che tu ogni tanto andrai no? sì 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 quando poi io li vedo passare perché siccome il mio compito ritirare l'oggettistica io chiamo oggettistica che sono tutte cose che le persone non usano più le donano ad esempio piatti bicchieri ma anche soprammobili ci sono delle cose bellissime no? che a volte a me sembra di fare la scoperta del tesoro perché guardo dentro scatole chissà cosa c'è dentro io mi piace molto sono molto anche perché sei curiosa anche proprio diciamo questa è la mia mansione principale così mi sono come si dice inserita inserita in questo contesto sì 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 ma tanto bello io appunto non ho parole a volte per esprimere questa questa sensazione questo sentimento che anche ringraziamento anche di di gratitudine esatto di ringraziamento per questa esperienza che spero di continuare per tanto tempo perché come ripeto per me è una grande famiglia e anche diciamo i progetti che che si svolgono grazie al nostro operare sono molto belli perché aiutano la comunità e aiutano tante persone grazie Elena bravissima grazie a te grazie davvero Francesco la tua esperienza alla Gulliver tu sei qui dal 2019 quindi sono già cinque anni che collabori con questa grande comunità che sensazioni ti dà lavorare qui alla Gulliver è un'emozione grande ti piace ti senti soddisfatto sì sì soddisfattissimo è vero bellissimo sei accolto ti trovi proprio accolto per quello che sei e per quello che puoi dare giusto giusto e senti cosa fai di particolare qual è il tuo compito qui qui pulisco faccio pulizie scari comerci organi si faccio la selezione piatti pulisco un pochino tassino ti capita di rompere qualche piatto ogni tanto sì sì vero perché tanto che capita a tutti ma dopo in quel caso lì quando il piatto si rompe come si fa si prova a riparare o è andato no è andato via è andato via tanto è difficile stare lì ma senti poi in generale poi qual è un aspetto che tu dovessi dire della tua vita in particolare qui a Gulliver ti piace il rapporto con gli altri io sono una persona timida però c'è un sorriso bellissimo lo sai no grazie è vero parlo poco con gli altri cogli l'occasione per parlare un po di più no tanto considera che è facile parlare in un ambiente come questo che comunque ti accoglie trovi persone che vogliono anche parlare con te ti sembra sì ed è molto importante Francesco mi stavi dicendo poco fa che sei tu sei qui alla Gulliver da quasi quattro anni qual è la tua esperienza quali sono le sensazioni quando tu la mattina arrivi qui per lavorare di portare via le cose che portano e portare nel magazzino la selezione pesare i sacchi di quello che selezionano quindi aiuti proprio allo svistamento delle merci e come ti trovi come che se queste persone che sono insieme a te ti trovi bene con me mi trovo bene sì è vero c'è quella quella proprio pensiero di sentirti utile a qualcosa è vero che è molto importante perché la considera che questa organizzazione vuole rendersi utile alle persone e questo importantissimo cioè tu pensa che col tuo lavoro rendi possibile che quelli che vengono qui poi trovino ciò che cercano anche anche questo anche questo è vero sì ma senti poi tu c'hai io questo ragazzo lo ti definisco un ragazzo anche se sei un ragazzo grandino come me anche uomo anche uomo esatto forse è meglio uomo c'ha una caratteristica particolare io l'ho conosciuto qualche tempo fa così casualmente e tu sei in grado di non so se un talento per il calendario cosa significa cosa riesce a fare con questo talento ricordarmi le date di che giorno della settimana era del circa dal 1900 in poi allora quindi pensate dal circa dal 1900 in poi circa vuol dire 120 anni più o meno se uno chiede a francesco che giorno era il 13 maggio del 1948 lui te lo dice io lo dico ecco è capace di dirti che il 13 maggio del 1948 era di martedì martedì allora ovviamente adesso invitiamo tutti i telespettatori andare a vedere se è vero se il 13 maggio del 148 era martedì ma io sono sicuro di sì è vero e come fai ad avere questa come ti viene questa cosa gli ho studiati 16 17 anni fa a poche ti è venuta questa passione di andare a trovare le date si grande francesco e considerate che lui è qui alla gulliver da quattro anni collabora con questa organizzazione e rende possibile tutto ciò che vediamo e poi ogni 28 anni succede lo stesso giorno nella settimana ogni 28 anni anche questo studiato 16 anni fa anche questo anche questo sì pazzesco bravo francesco adesso quindi quando ci sarà bisogno di fare calcoli del genere sappiamo dove andare dove andare ti veniamo a trovare ma sì ok come volete e tu ci sei come volete ecco grazie francesco come vedete in questo momento sono al lavoro alle mie spalle dei ragazzi degli uomini che stanno componendo questo gazebo e qui c'è la forza che odora di ormoni maschili come mi è stato suggerito prima della gulliver è una forza importantissima perché si occupa proprio della parte dei lavori manuali dei lavori fisici sono loro che scaricano materialmente i camion con la merce che arriva qui al magazzino del riuso sono loro che molto spesso vanno nelle case delle persone che sono in difficoltà per ritirare un elettrodomestico che vuole essere portato qui per smontare i mobili per dare quella mano che in altre situazioni sarebbe difficile avere ma attenzione perché non si limitano solamente a quello che vedete fare alle mie spalle quindi a un qualcosa di meccanico bensì sono dei veri e propri portavoce della gulliver accolgono le persone addirittura ci hanno detto molto spesso gli offrono il caffè sono in grado di allargare le loro braccia per accoglierli qui in questo luogo questo è un luogo davvero magico un luogo particolare nel quale si respira qualcosa di diverso rispetto ad altri luoghi per il semplice motivo che c'è la volontà di aiutare c'è la volontà di aprirsi c'è la volontà di essere a disposizione degli altri ed eccoci in piazza Redi dove tutto è nato le mie spalle vedete il negozio la bottega del riuso considerate che esiste questo punto di riferimento in uno dei luoghi commercialmente più noti della città appunto siamo nel quartiere di muraglia in piazza Redi dal 2012 tutt'oggi le persone possono fare riferimento a questo negozio per portare le cose che vogliono donare ovviamente ci riferiamo all'abbigliamento a ciò che è facilmente trasportabile c'è uno staff di persone pronte all'accoglienza poi i ragazzi che abbiamo visto all'opera poco fa nel magazzino centrale vengono a ritirare e portano a smistare e il ciclo che già abbiamo avuto modo di osservare in una delle puntate precedenti quindi è qui che è nata la storia della bottega del riuso pesarese e vedete quante persone comunque la frequentano tutti i giorni. Stefano e Matteini siamo al numero 4 di piazza Redi in questo negozio in questo l'abbiamo definito sportello sul territorio esattamente nel reparto bimbo quindi la vostra è un'attività proprio di relazione col pubblico. Certo sì 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 infatti noi siamo qui e io come esperienza personale ho iniziato qui come volontaria e poi sono andata anche nell'altro negozio di via Vincenzo Rossi ho avuto esperienza anche lì e ho lavorato sempre cioè sempre insomma buona parte nel commercio io e sono stata un periodo per motivi personali senza lavorare ho avuto la possibilità di conoscere persone che erano in questo contesto lavorativo e quindi c'era la possibilità che chiedevano appunto se qualcuno voleva aderire a questo progetto ho provato ho provato e ho visto una situazione completamente diversa dal lavoro del commercio normale perché hai che fare con persone completamente diverse c'è nel senso qui c'è una motivazione una motivazione perché tutto quello che fai lo fai per renderti utile appunto per il cittadino e qui vengono appunto persone che bisognose non bisognose persone normali che praticamente vengono qui a portare le loro donazioni e quando portano le donazioni ci dicono grazie e ci dicono grazie loro e quindi sono contento appunto di far parte di questo progetto perché sanno che vanno cose che vanno a buon fine insomma si tratta proprio l'hai già praticamente definito è una tipologia di concetto di commercio diversa c'è solidarietà qui c'è condivisione qui c'è voglia di essere a disposizione della società ti fa bene insomma stare in mezzo a queste persone perché senti che poi anche loro magari vengono qui persone molto spesso abitudinarie che passano qui anche per poter stare proprio insieme capito alle persone poter parlare far parte di questo contesto capito gli piace portare l'oggetto è contento di portare l'oggetto si sente utile si sente utile in qualche maniera perché dice guarda c'ho questa cosa qui invece perché buttarla posso posso fare del bene un'altra persona quindi la porto da loro che sono delle persone insomma per cui poter fare insomma questo questo tipo di di donazione e poi credo che ci sia anche una soddisfazione personale non avere nell'avere un oggetto un qualcosa che non si usa più sapere che lo prende qualcun altro e viene utilizzato da qualcuno infatti il nostro lavoro è molto parlare con le persone fare molto persone far capire questo concetto qui cioè non è solo il portare capito l'abito che non usi più è perché proprio il concetto che te stai facendo del bene a un'altra persona insomma che quel tuo capo che te non ne fai più uso ne può far benissimo uso un'altra persona vuol dire anche magari la persona che ti può capitare il capo con la firma e capo senza firma per noi è tutto uguale quindi anche la persona che magari che non si può permettere di andare a comprarsi un abito armani in questo contesto può avere la soddisfazione di dire mi sono preso un abito di un certo livello e poi in più faccio insomma dai faccio una donazione partecipano alla olus capito per per i vari progetti esatto e partecipo proprio a quello che il discorso dell'economia circolare c'è anche grande attenzione all'ambiente è logico il bello è questo poi il bello è proprio parlare con le persone fargli capire il senso è stato difficile inizialmente perché lo vedevano appunto come un negozio commerciale quindi c'è stato molto molto lavoro per far capire invece l'altro discorso quello che c'è di quindi si ci si è insomma molto lavoro iniziale però adesso c'è stiamo lavorando benissimo perché tantissimo perché le persone vengono proprio qui contente di portarti sacchettino con le loro cose anche specialmente i giocatori dei bambini che ne fanno più uso dicendo al bambino guarda tu non lo usi più facciamo giocare un altro bambino tutti contenti i bambini che portano questo giochino perché sanno che insomma può soffrire un altro bambino col loro gioco nasce quindi è proprio davvero lavoriamo molto con i bambini quindi contenti felici vogliono entrare appunto prendere il giochino vengono qui sono contenti insomma è un vero e proprio discorso culturale quindi i bambini dall'inizio capiscono che effettivamente si è una bella cosa anche per loro perché crescono con questo no con questa con questo spirito di condivisione si si proprio bello c'è molto educativo anche per i bambini secondo me questa cosa grazie stefania grazie davvero grazie grazie a voi grazie maurizia vediamo che questo negozio frequentato c'è tanta gente oggi è una bella giornata c'è evidentemente anche chi gira qui per la zona di piazza redi vede questo negozio vede tutti gli abiti messi fuori si avvicina compra condivide ed entra in un circolo virtuoso che è quello del riuso esatto allora questo diciamo noi la chiamiamo la bottega perché comunque non è un negozio e dove io sono qui da circa 45 anni amica di infanzia della valeria che aveva bisogno di una volontaria ho detto dai perché no ho sempre lavorato nel commercio lei dice ma qui sono vestiti dico non ti preoccupare c'ho la chiacchiera mi piace stare in mezzo alla gente questo il posto giusto e qui viene gente di tutti i tipi quindi dal bisognoso a quello alla signora la moglie del dottore chiunque sia c'è c'è un gran giro di gente gente che viene tutti i giorni perché ama il posto ama venire e far la battuta la risata ci scambiamo ti arrivano con i pasticcini ti portano il caffè cioè quasi un ambiente molto familiare diciamo ma scusami in quel caso lì rivendete il caffè e i pasticcini oppure no no ci coccolano loro quindi noi ce li beviamo e gli diciamo grazie ci dà la più carica il caffè ti vedo un po abbattuta via con un caffè poi arriva il bimbo perché i bimbi sono innamorati di questo posto e vengono hanno il loro mondo la nonna è più felice del bambino perché chiaramente la nonna quando viene dice ho un posto dove me la cavo con poco posso portarlo tutti i giorni lui è felice perché compra qualsiasi cosa dal dinosauro al pazzo all'allego e quindi per loro vengono qui addirittura mentre le mamme e le nonne cercano l'abbigliamento così loro si sdraiano per terra si creano tutto il mondo con i loro animali i loro paesaggi si fanno diciamo è un posto proprio anche di gioco quindi è bottega gioco e diciamo e per noi è un piacere è un piacere perché li vedi che entrano proprio volenterose e addirittura quando vengono ti dice grazie oggi ti abbracciano ti dico madonna oggi ho comprato questo capo mi sento la più felice del mondo quindi per noi sono grosse soddisfazioni quindi diciamo che dai è un posto molto bello un posto dove io personalmente non riesco a farne a meno ci vengo proprio col cuore vediamo che proprio quasi ti crea commozioni a me piace molto io quando sto male se mi assento per me ti manca qualcosa è un bellissimo posto un posto dove si sta molto bene dove quindi possiamo definirlo allora è un punto di riferimento un punto di riferimento per chi ha bisogno per chi vuole per chi cerca ma è un punto di riferimento anche per chi ci lavora sì 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 no no ma infatti ti dico tu non dici oggi vado a lavorare oggi vado a divertirmi vado a passare le mie quattro ore serena non hai pensieri si azzera tutto non hai pensieri esterni ma anzi hai modo di allargare l'amicizia allargare le conoscenze e poi ti manca proprio questo questo affetto il bambino che viene ti porta il cioccolatino e ti dice ma sì maurizia ti ho portato un cioccolatino quelle per me sono le cose che ti squagliano al massimo cioè sono delle soddisfazioni grosse detto e comunque ecco tutto questo poi va per un progetto quindi chiaramente quando vengono che acquistano grazie grazie a voi e anche oggi abbiamo contribuito perché col fatto che vengono tutti i giorni oggi anche oggi si è contribuita alla spesa per voi per i vostri progetti quindi questo proprio vuol dire che la gente lo capisce e diciamo quindi dai è una bellissima cosa sì in pratica c'è il riconoscimento dei valori che fanno di gulliver proprio un qualcosa di diverso sul territorio grazie maurizia prego grazie a voi grazie grazie valeria questo viaggio alla scoperta di gulliver sta andando a concludersi usciamo dalla bottega di piazza redi abbiamo davvero compreso come funziona questo concetto di economia circolare di riuso a te le conclusioni perché è stato davvero una scoperta magnifica per tutti noi che l'abbiamo vissuto in prima persona ma anche soprattutto per gli ascoltatori che ci hanno seguito certo e allora ho pensato di finire questo cammino questo racconto di quotidianità di questa gulliver progetto di riuso qui in piazza redi perché è il punto dove noi siamo nati 12 anni fa quindi ero contenta di ritornare alle origini sono passati 12 anni ero più giovane però fino ad ora è andato tutto bene ma sei ancora giovane perché anche perché un'attività come questa non può che mantenere giovane esatto e quindi per me è un'emozione essere qua perché comunque con andrea boccanera il presidente della associazione quel giorno decidemmo di iniziare questo cammino è un cammino molto particolare è nato dal niente è nato dalla speranza di poter cambiare questo mondo 12 anni fa come vi ho raccontato è un periodo storico un po particolare la gente stava subendo la crisi economica quindi andrea ha avuto questo diciamo coraggio di cambiare il mondo o comunque dare un primo segnale io ho avuto fiducia l'ho seguito in tutto per tutto e adesso uso una parola un po forte e abbiamo avuto in questi 12 anni anche un incontro con delle persone speciali e comunque diciamo ci hanno definito lievito lievito cosa vuol dire nell'impasto del pane se mettiamo il lievito il lievito da una trasformazione che sia piccola grande ottima discreta comunque fa un movimento questo movimento è una trasformazione nel vedere il futuro in modo diverso e ha fatto sì che lungo questi anni siamo riusciti a contagiare altre persone tant'è vero che da una situazione del genere oggi abbiamo un capannone abbiamo un'altra location nella vista giornaliera ci sono tante sfumature avete coinvolto decine di persone di umanità esatto ma non solo quello perché in questa carrellata di puntate noi abbiamo dato parola a chi giornalmente vive ma oltre a loro c'è l'intera città perché comunque le nostre location sono continuamente piene di persone ma non solo che vengono a donare o acquistare ma vengono anche a passare del tempo quindi questo cosa vuol dire che il nostro ambiente sano e pulito e libertà tutti sono uguali e quindi ne passata di acqua sotto i punti ma secondo me col senno di fuori l'investimento è stato ottimo e quindi orgogliosa di questa comunità e di questa energia che stiamo anche perché tu hai utilizzato un concetto molto importante cambiare il mondo ma il mondo si può cambiare e si ricomincia con piccoli passi con idee con idee che poi trovano la loro concretizzazione e persone che seguono queste idee e danno vita a tutto ciò esatto e soprattutto oltre al livello proprio diciamo manuale concreto la parola presenza l'ascoltare l'ascolto quindi come dicevo le persone vengono nelle nostre location anche per trovare un attimo di ascolto perché la solitudine oggi come oggi è tanta siamo in questo vortice di corsa e non ci accorgiamo che magari la persona vicino a noi ha bisogno di una parola ha bisogno di una parola e quindi insomma è tutto bello cioè alcune volte non ci si rende neanche conto di quanta energia abbiamo e quindi grazie ad Andrea che comunque quel giorno ebbe questa idea grazie a tutta la comunità grazie a chi giornalmente è come Stefania come Maurizia come tutti i colleghi e i collaboratori ci hanno spiegato anche persone occasionali che comunque credono nel nostro operato l'economia il risparmio e c'è tanta roba e quindi è bellissimo e hai scelto anche un modo molto molto personale per chiudere questo ciclo di trasmissioni sì esatto allora innanzitutto vabbè devo fare il ringraziamento a tutti voi che ci avete permesso di raccontare questa storia e un grazie enorme però facci dare ringraziamento anche a noi che abbiamo avuto modo di conoscerla e di conoscere le persone straordinarie che ruotano intorno a Gulliver e questo lo diciamo col cuore grazie e ringrazio comunque il comune e non ci dobbiamo mai dimenticare che ci dà la possibilità di fare apprezza anche quello che comunque facciamo per la città perché ricordo che tutto quello che viene donato viene comunque controllato e gli introiti di questa realtà al netto delle spese vengono rinvestiti in città con progetti gratuiti e quindi è proprio un circolo di anima io credo in Gulliver perché sono seri dono loro ci lavorano fanno gruppo con le persone che hanno bisogno di stare in mezzo alla gente al sociale e poi tutto viene ridato alla città quindi questo è molto bello e se non ci fosse il comune che ci appoggia magari avremmo sarebbe tutto molto più difficile e quindi ringrazio tutti i collaboratori che hanno raccontato quello che vivono giornalmente con noi sì volevo chiudere questo cammino con una poesia che un artista di tesoro ci ha dedicato e racchiude un po' il mondo dell'amore del riuso e di capire che comunque ognuno di noi ha un'entità e deve essere rispettata il balcone al piano terra con vista entra esce rimane ho raccolto il primo giorno nella soglia una fototessera l'amicizia tra un volto sconosciuto e il gesto di raccoglierlo entra esce rimane ci sono luoghi in cui passi si sommano senza richiesta ma solo con apertura si oltre passi limiti attendiamo i non soli entra esce rimane anche una gomma da masticare dimenticata sotto un tavolino ricordiamoci segna un passaggio proteggiamo un vissuto mentre spesso anche l'oggetto più nuovo senza un pensiero che lo sorregge possiede solo l'illusione di un divenire entra esce rimane si guarda da un balcone che possiede la stessa altezza del paesaggio uno sguardo paritario tra occhi in linea con occhi e ci si impiglia su oggetti sugli altri su se stessi tutti guardano qualcosa per salvarsi l'indifferenza non è mai passata di qua lo si sente entra esce rimane qualcosa riccardo aleodor venturi